Dylan Dog 420, Jenny. Jenny è pazza, Jenny vuole dormire, liberamente ispirata alla Jenny di Vasco Rossi. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Dylan Dog, nella serie regolare in cui parliamo appunto dei numeri che escono ogni mese sull'indagatore dell'incubo, come forse saprete se non vivete su Marte da tre mesi a questa parte, cazzo che rima, ci sono state delle collaborazioni con Vasco Rossi, nel senso che sono state prese tre storie, scusate, tre canzoni di Vasco Rossi dedicate a delle donne, o comunque dove narrano delle vicende con protagoniste delle donne, e sono state usate come libera ispirazione da tre delle autrici più famose nell'ambiente dilaniato, che sono Paola Barbato, Gabriele Acconto e Barbara Baraldi, per scrivere le sceneggiature di questi tre albi che abbiamo letto in questi tre mesi. È stata la volta di Sally, poi c'è stata Alba Chiara e ora si conclude il ciclo con Jenny. Di tutto questo esperimento musicale, commerciale, non ne voglio parlare qui, probabilmente farò un video a parte, probabilmente faremo una live a parte, non voglio nemmeno parlare qui del fatto che Gigi Cavenago ci abbandonerà come copertinista dal 421, né delle speculazioni sul motivo per cui potrebbe abbandonare la testata, cioè ha abbandonato la testata, anche di quello parleremo in tutto ciò che sarà il trittico Dylan Dogg e Vasco in un video a parte, in una live a parte. E qua vorrei parlare proprio di Jenny, la storia che ho letto e che ho adorato. Diciamo che tutte le tre le storie prese dalle canzoni di Vasco Rossi sono state davvero belle, forse proprio perché non ce lo si aspettava che un esperimento del genere a livello narrativo potesse funzionare. Magari tutti pensavano che la cosa fosse commerciale anche nella scrittura, mentre fondamentalmente le storie sono davvero ispirate. A differenza delle altre due storie ispirate alle altre due canzoni di Vasco che potevano lasciare un po' di spazio all'interpretazione, qui l'argomento che avvolge la vita di Jenny è palese. La storia in questo caso nasce dalla penna di Barbara Baraldi, che abbiamo visto recentemente nell'Ora del Giudizio, di cui questa storia vagamente mi ha ricordato alcune cose, soprattutto all'inizio, o più che all'Ora del Giudizio, mi ha ricordato molte ambientazioni del numero precedente a cui l'Ora del Giudizio è legato, ovvero il prigioniero, che a sua volta mi aveva ricordato Necropolis, ovvero che un inizio dove Dylan Dogg per qualche ragione è in una prigione e non sa il motivo, e non parla con nessuno e non vede nessuno ed è chiuso in queste quattro mura. Questo per le prime venti pagine, finché non inizia a chiacchierare con Jenny dall'altra parte della parete. Questo dialogo tra prigionieri, invece, mi ha ricordato un po' quella scena straziante nella parte centrale del film Viper Vendetta, dove Eve comunica appunto con un altro prigioniero. Poi è chiaro anche il riferimento a Il Buco, il film che potete trovare su Netflix, che parla appunto di una prigione a livelli, dove Dylan cerca di scappare di stanza in stanza e trova varie prigioni per arrivare a Jenny, ma è proprio nel finale che questa storia mi ha colpito al cuore. Va diretta a raccontare una fantastica storia d'amore che, come nella vita reale, non sempre finisce con un lieto fine. O quantomeno per arrivare a un lieto fine deve passare davvero da tante avversità, che sono appunto in questo caso la prigione mentale di Jenny. Jenny è un personaggio presentato come qualcuno che vuole staccarsi dal mondo esterno, che vuole isolarcisi, che non vuole sentire più niente, è solo stanca della vita. Ma allo stesso tempo è anche un personaggio che, come ha detta di lei stessa, sente troppo. È nata senza pelle, lei sente troppo le emozioni. Sembrano due parti di un carattere all'antitesi l'una dall'altro, ma in realtà è molto comune che una persona, proprio perché è troppo sensibile, vive troppo male le angosce del mondo. Sente troppo il peso del mondo e finisce per sentire, appunto, tutte le esperienze positive, ma anche negative, nella sua vita. Finisce per chiudersi, per costruirsi un guscio, per poter smettere di sentire così tanto. E finisce per diventare apatica, finisce per diventare depressa. Jenny a un certo punto ha scelto, come dice lei, di smettere di provare, smettere di sentire. Come il caro Homer Simpson, una volta detto nel cartone animato, dando uno dei suoi pessimi consigli paterni a Bart, o a Lisa, non ricordo, hai provato e hai fallito. Qual è la morale? Non provare mai. Ecco, Jenny vuole stare in questa fase, non provare più nulla, per non sentire più il dolore. Dylan invece, in questo caso, rappresenta un entusiasta della vita. E se ci pensate, è un entusiasta della vita. Una persona che anche di fronte ai peggiori orrori, vuole viverseli per ogni istante, vuole assaporarli, vuole combatterli, vuole sempre combattere e reagire. È fondamentalmente, da questo punto di vista, un entusiasta, perché parla tranquillamente anche della morte, e con la morte, con serenità. E non riesce a tollerare, non può permettere che una persona così bella come Jenny, di cui lui riesce a vedere la bellezza attraverso questo suo scudo, questo suo muro, che non è solo metaforico all'inizio, ma c'è proprio un muro che li separa, lui riesce a vedere questa bellezza in Jenny e non può permettere che una persona così si chiuda dentro quattro mura, si chiude in una prigione mentale, vuole salvarla, vuole essere lui il baluardo contro il mondo per poterla tirare fuori da questa prigione. Rispetto agli altri due numeri vascolizzati, qui la donna protagonista dell'albo non è una cliente di Dylan, bensì è un amore di Dylan, è una persona per la quale Dylan si innamora, ed è davvero bello che in questi tre numeri un fan di Vasco Rossi, che magari non conosce Dylan e ha preso solo questi tre numeri, e li ha letti ovviamente, abbia visto diverse sfaccettature dell'indagatore dell'incubo, ed è fantastico che prima, magari, spero di no, di andarsene dalla testata con questo ultimo numero, abbia visto un Dylan Dog quando è innamorato. Ci voleva almeno un numero dove un fan di Vasco che non conosce Dylan, vedesse Dylan quando è innamorato. Questo numero, come anche gli altri due, rappresenta bene a tutto tondo l'essenza di Dylan Dog, c'è lo splatter, ma c'è anche il dramma esistenziale, c'è il mostro che è una metafora della vita. In questo caso il mostro è la stanza, e la metafora, o meglio, le stanze, e le metafore sono le prigioni mentali che ci creiamo. A scanso di equivoci, qua le metafore sono apertamente spiegate a pagina 53 da Dylan e Jenny che cercano un po' di capire dove si trovano, così lo spiegano al lettore meno attento. La metafora è la prigione della nostra mente che noi stessi ci creiamo, ognuno si crea la sua, abbiamo visto la prigione del paranoico, la prigione della persona che, peggio di Jenny, si è arresa alla vita, il vecchio e il cuoco sadico che rappresenta proprio la mente. La mente ti può fare a pezzi, ti può mangiare. La prigione di Jenny è ben chiara, è la depressione. La stanchezza, la voglia di dormire, Jenny è stanca, Jenny vuole dormire, lasciatela stare, rappresenta perfettamente questo stato della malattia. La persona depressa per non sentire spesso dorme. Dorme perché fa una piccola pausa da tutti i pensieri che gli passano per la testa, spegne un attimino il cervello, mette in pausa il dolore per qualche ora. Come dicevo a quella poesia, dormire è un po' come morire. Jenny è pazza, direbbero i perbenisti, i benpensanti di un paesino, quando scorre la voce che una persona non sta bene e i problemi non sono visibili. Il perbenismo, che è il vero mostro della società, è raccontato molto bene, sia dalle canzoni di Vasco che da Dylan Dogg, ed è qui che nasce il vero connubio. E spesso la depressione, come nel caso di Jenny, quando è influenzata anche dal giudizio esterno delle persone, non fa che peggiorare, è una spirale verso il basso che ti porta a fare azioni anche estreme, come quella che abbiamo visto compiere da Jenny a un certo punto della storia. In questa spirale autodistruttiva, l'unico baluardo che la possa salvare sembra proprio essere Dylan, che la ama incondizionatamente, in salute e in malattia. Non gli importa che stia male, anzi, vuole proprio aiutarla a tornare, a essere la Jenny che ha conosciuto all'inizio, la Jenny allegra, la Jenny spensierata, la Jenny che provava insieme a lui le emozioni, come vedremo più avanti nella storia. Scopriamo che la prima parte, quella un po' più citazionistica, è in realtà un sogno, un sogno che Dylan fa tutte le notti da quando Jenny, la sua amata, si è voluta autonomamente ricoverare e non ha più voluto vedere nemmeno Dylan per poter guarire dalla sua depressione. Nel sogno che fa Dylan, Jenny riesce a raggiungere la porta di uscita da questa prigione mentale, ma poi non riesce a valcare la soglia. Dylan ogni giorno si sveglia, si sveglia da solo, ma a Dylan non basta più sognare Jenny, Dylan la vuole vedere davvero e quindi in questo mondo dolce amaro che è questo albo abbiamo un piccolo finale, un piccolo lieto fine in cui Dylan va finalmente a trovare Jenny nell'istituto e Jenny questa volta trova la soglia della porta di uscita e pare tornare a casa insieme a Dylan. La storia d'amore narrata qui dentro è tra le più belle mai viste nella mia esperienza dilaniata. È una storia moderna che parla più per immagini che per racconto senza nulla togliere agli amori famosissimi di Dylan Dogga, agli amori eterni di Dylan Dogga come Marina del Lungo Addio o Lily Connolly di Finché morte non vi separi e del numero 200. Ma qui è proprio nelle tavole come sono disegnate dove vediamo degli spaccati di vita, di vita insieme di due persone che si amano che rendono il loro amore molto vero, molto vivo e qua si vede che il disegnatore Davide Furnocci ha davvero messo l'anima in questi disegni, in questi sguardi, in questi momenti insieme nel sorriso fantastico di Jenny che a mio parere è forse tra le tre ragazze quella disegnata in modo più particolare. ha un sorriso vero, ha le lentiggini mi sembra la più realistica delle tre per come è stata disegnata e poi ragazzi le mani le mani in questo numero come le disegna Furnocci sono dei dipinti. Ragazzi disegnare le mani è difficilissimo so che di solito parlo delle tavole nella mia Instagram TV ma a parte che lo faccio sempre in ritardo però voglio dirlo anche qua perché quando una cosa merita guardate in queste tavole le mani di Dylan Dog oltre agli sguardi, per carità, che sono fantastici ma le mani di Dylan Dog le mani di Jenny sono una cosa spettacolare disegnare le mani in questo modo vuol dire essere davvero degli artisti quella era la mano di Dylan Dog che si metteva sul cuore quando parlava con Jenny e questa è la mano stessa di Jenny che poi so che non si riesce a mettere a fuoco bene così però è per darvi un'idea poi magari lo guarderemo meglio nel video che farò sull'Instagram TV quindi davvero complimenti a Davide Furnocci faccio comunque complimenti anche alla copertina di Fabrizio De Tommaso che delle tre è quella che mi è piaciuta di più non so perché forse anche per un gioco di colori il fatto che Vasco sia vestito speculare a Dylan Dog il fatto che nonostante Vasco sia comunque dipinto sia vero non stona con Dylan Dog perché anche Dylan e Graucio sembrano dipinti nella stessa qualità e sembrano tutti immersi nella stessa scena a differenza di quella del mese scorso che sembrava un collage che non mi era piaciuto molto e quella del primo evento che era più una copertina da evento dove c'erano semplicemente Dylan e Vasco spalla a spalla ma non c'era né uno sfondo né nulla quindi dato che non avevo parlato delle copertine di De Tommaso poi ne parlerò probabilmente nella live generale però almeno un accenno a questo numero in particolare dove la copertina mi è piaciuta non mi dispiacerebbe una variant di questa copertina dove al posto di Vasco che suona la chitarra magari c'è una Jenny che non so suona uno strumento comunque fa qualcosa di divertente perché Jenny è un personaggio quando non è depresso che è davvero molto divertente che può far stare Dylan e Graucio così incantati a guardarla sarebbe molto carino fatemi sapere voi se questa storia vi è piaciuta scrivetemelo qua sotto nei commenti se scoprite questo canale per la prima volta vi invito a iscrivervi mettere un bel mi piace a questo video anche a tutti gli altri eccetera eccetera questa settimana è molto dedicata a Dylan Dog c'è questo video oggi venerdì farò un video di unboxing legato a Dylan Dog e domenica ci sarà il mio retro Dylan dove parlerò di Mater Morbi e alla sera ci sarà una live delle live che faccio mensilmente dove parleremo di Dylan Dog e la malattia nella live ci agganceremo appunto a Mater Morbi come spunto per parlare di malattia ci agganceremo anche al fumetto Dylan Dog la lettera bianca che se non conoscete eventualmente vi metto qua in descrizione qua nelle schede il mio video dove ne parlo e dove magari potete trovare poi dei suggerimenti per acquistarlo e che dire è una live a cui tengo molto e chiaramente Jenny è appena uscito se no avremmo introdotto anche l'argomento depressione Dylan Dog e la malattia magari se riusciremo faremo un accenno ma non vi prometto nulla però siateci perché penso che sarà qualcosa di cui ci si può uscire arricchiti non per la mia presenza ci saranno anche delle psicologhe dove appunto ci potrebbero dare degli spunti interessanti grazie per avermi seguito fino a qui ci vediamo nei prossimi video questa settimana e domenica in live arrivederci e domenica e domenica e domenica e domenica